ciao a tutte ciao a tutti eccoci per la prima mini pillola per affrontare l'emergenza allora il primo passo dopo avere acquisito una comprensione di quello che sta accadendo è stabilizzare il campo cosa vuol dire stabilizzare il campo noi siamo inseriti in una matrice questa matrice parte naturalmente dalla matrice macroscopica del mondo e mano a mano si va a stringere fino alla matrice più microscopica che è la nostra casa ed è ovviamente il campo anche interiore il nostro mondo interno il contesto nel quale noi ci inseriamo e viviamo in questo momento il campo si è già ristretto quindi siamo in qualche modo confinati ad un campo molto più piccolo i nostri spostamenti sono in questo momento impediti se non per spostamenti molto piccoli e circoscritti non possiamo decidere dove andare e quindi questo campo è diventato un campo automaticamente insicuro perché perdiamo controllo sul campo quando il campo diventa insicuro si attivano tutti i meccanismi cosiddetti di sopravvivenza quindi io non mi sento più che sto esistendo la mia non è più un'esistenza ma è una vita di sopravvivenza e quindi sono portato a eliminare a illudere in qualche modo tutti i livelli che sono quelli del piacere della bellezza del godimento non sono rilassato e tutto il mio essere è teso soltanto in una condizione che deve preservare la sopravvivenza il cervello rettiliano cioè il cervello più antico a questo punto si attiva tenendomi allerta facendo sì che io sia costantemente connesso a vedere l'andamento delle notizie e finalizzato totalmente a preservarmi e a preservare eventualmente le persone che sono accanto a me in questo campo non mi sento stabile allora questo fa sì che si generino interiormente una serie di vissuti che possono andare dall'ansia più semplice in realtà fino anche all'angoscia alcune persone mi scrivono che dormono male per esempio che fanno incubi perdita del piacere riduzione del tono dell'umore allora primo passo il campo va di di nuovo stabilizzato la parola chiave il mantra chiave è stare comodo in un campo di tensione cosa significa significa che per quanto il campo possa essere difficile per quanto in questo momento non sia fonte di bellezza e non sia fonte di sicurezza io posso cercare una sicurezza interna posso andare a cercare le risorse che ho internamente e posso ristrutturare il campo attraverso le mie risorse quando io mi sono formata tantissimi anni fa senza sapere che mi sarei trovata adesso ad utilizzare queste competenze in una maniera così diretta mi sono formata in psicologia delle emergenze ai tempi con francis chapiro con roger solomon poi successivamente con peter levin il primo punto è proprio quello di fare delle cose che sembrano banali ma che in realtà cambiano la percezione del campo la stessa cosa che noi facevamo per esempio con le vittime di violenza quando lavoravo al soccorso violenza sessuale domestica della mangiagalli di milano e cioè prima cosa quali sono gli aspetti proprio pratici che ti fanno stare meglio da un punto di vista fisico quando arrivavano le vittime la prima cosa che noi facevamo e così si fa anche in psicologia dell'emergenza sono i generi di conforto che possono andare da una cosa banalissima che era quella che noi offrivamo la tazza di tisana calda al per esempio scegliere l'indumento che ti fa sentire meglio quello che ti fa sentire più comodo allestire la stanza nella maniera che tu senti più consona a te in questo momento andare ad utilizzare delle cose banalissime pratiche ma che in realtà dal punto di vista dell'inconscio diventano in un certo senso gli oggetti transizionali di Winnicott che il bambino utilizza il bambino quando è piccolo esce sempre con un pupazzo preferito perché perché è un oggetto transizionale allora non necessariamente dobbiamo regredire alla posizione del bambino ma cerca di allestire la tua casa in una maniera che in questo momento per te sia quella migliore che ti fa sentire più riparato più protetto al caldo al morbido che ti dà la sensazione del nido che ti dà la sensazione della tana questo è il primo punto i generi di conforto e quindi prenditi cura di te anche con delle cose molto semplici molto banali ma che ti diano la sensazione di un accudimento verso di te e ho visto una vignetta ironica che dice ne usciremo puntini puntini obesi ma ne usciremo ecco magari cerca di evitare di utilizzare come generi di conforto generi che siano soltanto dolci o cose del genere anche se magari la tentazione viene ma allora come dire utilizza il banale buonsenso nella nell'assumerli e poi il campo è fatto di percezioni è fatto di sensorialità la musica per esempio i colori i profumi non ci sembra che sia così importante ma il nostro cervello si nutre di questi aspetti quindi si nutre di sensorialità allora in un momento come questo può venire la tentazione di lasciar perdere l'estetica invece l'estetica è un ingrediente fondamentale per il benessere del nostro sistema nervoso quindi cura quella che è la bellezza cura il luogo in cui ti trovi e cura te stesso scegli un colore che per te in questo momento è forte è rinvigorente piuttosto che uno che sia rilassante utilizza un sottofondo di musica che può essere anche costante e farò anche una mini pillola più specifica su questo scegli degli aromi per esempio dei profumi che ti facciano stare bene cioè crea un campo che deve essere il campo giusto per immaginare di fare un travaglio perché in un certo senso è questo che dobbiamo fare dovremo rinascere dovremo uscire fuori da un tunnel e arrivare a nuova luce ma quando le donne partoriscono il campo fa tantissimo fa la differenza e così anche adesso ci stiamo ripartorendo esattamente come il seme che nella terra umida oscura che sembra che si stia distruggendo invece sta per germogliare di nuovo ma per far questo serve il campo sicuro quindi questi primi accorgimenti sono proprio quelli per stabilizzare il campo dal punto di vista esterno nella prossima mini pillola invece parliamo di come stabilizzare il campo interno a presto